Sicuramente c'è preoccupazione che io trovo legittima da parte di alcune persone, meno da parte di altri che strumentalizzano e sicuramente va censurata ogni forma di violenza, di aggressione, di minaccio, di intimidazione. Io credo che è in atto una fase molto importante, perché per la prima volta della storia recente della nostra città si è deciso, sulle modalità certe volte di un linguaggio un po' formale e burocratese che può spaventare, ma si è deciso di mettere norma, di mettere regola e di mettere ordine in un tema così complesso e delicato come quello delle case, come quello dei condoni, come quello di persone che sono esistenti ma che risultano inesistenti, nel senso c'è gente che qua non paga nessuna bolletta, non c'è nulla. Allora questo consente alle persone che hanno legittime preoccupazioni e che si sentono preoccupate di stare tranquillissimi, perché questo percorso non porterà nessuno in mezzo a una strada, porterà semplicemente a chi magari non avendo nessuna colpa, da anni si vuole regolamentare, vuole condonare, vuole mettersi in regola di poterlo fare. Se scopriremo che c'è gente che ha fatto crimini, ha fatto reati, ha abusato in modo evidente di situazioni di cui non doveva abusare, gli si chiederà se ci sono le condizioni, per gli ultimi intendo dire, per quelli che hanno abusato non stando in regola, di mettersi in regola rapidamente, per chi invece ha fatto situazioni di particolare illegalità non ci sarà nessun tipo di tolleranza, questo mi sembra evidente, noi sappiamo che questa è anche la città in cui la vita organizzata, ha utilizzato all'oggi sfruttando magari persone che stanno all'interno, le vicende che noi conosciamo, di alcuni rioni, non solo oggi si parla dell'area nord, ma perché non anche nell'area occidentale, insomma è venuto il momento che questa amministrazione, che è l'amministrazione della legalità e dei diritti, faccia luce, quindi mi sentirei di tranquillizzare tutte le persone che non hanno fatto nulla di male, ma che si sono trovate magari anche a loro insaputo, anche loro margrado, in una situazione di precarietà, che questa è l'occasione di uscire fuori dalla precarietà e anche di uscire fuori certe volte dalla strumentalizzazione politica che qualche forza politica o qualche consigliere di turno cerca di fare, no, non ti preoccupare, tanto ci penso io, stai tranquillo, vado a parlare con Tizzi, vado a parlare cocai. Adesso è venuto il momento di mettere ordine, quindi insomma capisco le preoccupazioni, ma vedo vicino alle preoccupazioni anche qualche agitatore politico e forse anche qualcuno che non è proprio uno stinco di santo.